L'Abruzzo che pedala è questo il nome della tavola rotonda che si è tenuta a vasto presso la splendida cornice di Palazzo d'Avalos. L'evento è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara in occasione del passaggio in città del Giro d'Italia. Continuiamo con questo progetto sul turismo e territorio, abbiamo puntato molto sul cicloturismo, una scelta fatta alcuni anni fa da Camera di Commercio anche in vista dell'apertura della pista ciclabile della costa teatina ma anche più in generale il progetto Bike to Cost che coinvolge tutta la regione Abruzzo e tutta la dorsale adriatica italiana. È un settore del turismo che in qualche modo è in aumento esponenziale, il turista cerca sempre di più una vacanza anche attiva oltre che di relax. Ai lavori ha preso parte anche l'assessore al turismo della regione Abruzzo Mauro Febbo che ha fatto il punto sulle criticità riscontrate per la realizzazione della Via Verde. Abbiamo messo in campo altre risorse finanziarie e economiche, stiamo chiedendo di accelerare, peraltro abbiamo la possibilità di trovare anche altre risorse per mezzo di un accordo che riguarda le regioni che stanno lavorando su una pista che non riguarda solo l'Abruzzo. L'Abruzzo è 131 km, la parte della provincia di Chiedi sono 41 km, ma c'è una pista importante che si sta realizzando dal Veneto alla Puglia, anche quelle sono altre risorse che ci verranno date. Abbiamo necessità di rendere ciclabile non solo i 41 km della costa dei Trabocchi ma anche dell'intero tracciato da Martinsicuro a San Salvo. Ospite di eccezione Maurizio Formichetti di RCS Giro d'Italia che ha messo a fuoco i principali aspetti dell'economia su due ruote che solo in Italia genera un fatturato di 6,2 miliardi di euro. L'uso della bicicletta è il futuro dell'economia, posso dire che la bike economy valuta in miliardi l'introito che può avere il cicloturismo. Io mi auguro che questa regione, che queste città, anche di pianura, abbiano questo sviluppo. Infine, quella di oggi è stata l'occasione per presentare la guida sui percorsi cicloturistici delle province di Chieti e di Pescara con il supporto del gruppo editoriale Trekking.it. Sono 15 itinerari al momento realmente percorribili che sia in bici da corsa, gravel o mountain bike partendo dalla costa fino all'interno, coniugando la scoperta del territorio, la gastronomia, la storia, la cultura e l'arte.